Abbiamo voluto dedicare uno speciale a questo decennale di Papa Francesco per raccogliere l'album fotografico di quel 13 marzo, eravamo anche noi lì in piazza San Pietro con il fotografo Gianni Zotta, ma soprattutto per segnalare dieci parole chiave di Papa Francesco che ci indicano la rotta di questo pontificato così intenso. È un Papa che sentiamo nostro compagno di viaggio in grado di guidarci dentro il futuro con la bussola della gioia del Vangelo, quella che ci ha raccontato in questi anni. Le sue parole chiave vanno da poveri a vita, da chiesa a politica, da denaro ad ambiente, tutto questo nelle otto pagine che consegniamo ai nostri lettori come guida per i prossimi anni. Ed un grazie a Papa Francesco. Non ci dimentichiamo di pregare per te.